I gironi di prima categoria B e C potrebbero decidersi domani. Lions Grotto, Eraclea, Parcaquilone, Polisportiva Toriello, Lupo Fidelis e Città di Montoro sognano i 90 minuti da promozione. Dopo aver perso lo spareggio in casa dell'Eraclea per 4-1, i grottesi di Mister Lanza e Patron Uva sono costretti a vincere le ultime due partite di campionato per avere la certezza matematica del salto di categoria. Domani al romano arriverà l'ostico Wellicam United, mentre i pugliesi tra le mura amiche ospiteranno l'Atletic Cerreto. Sulla carta dovrebbero mantenersi due punti di vantaggio per i giallorossi di Mustone, Flamia e Cataluuzzolo. Il girone C è quello che cattura l'attenzione maggiore. Quattro squadre in tre punti e tutti sognano la tanto agognata promozione. E domani in quel di Bonito, Lupo Fidelis e Parcaquilone saranno pronti a regalare un match senza esclusione di colpi. I ragazzi di Gernogiannasca, con una vittoria, potrebbero ipotecare la promozione per lo special one della panchina potrebbe essere la sua quarta in dieci anni, mentre per Crescitielo una vittoria garantirebbe ai Lupi la seconda piazza, perché la polisportiva Torrillo di Stabile ne potrebbe giovare, avendo anch'esso un impegno sulla carta agevole contro la penultima della classe Real Montefalcione. Più defilata invece la compagine di Montoro di Mister Giacquinto, che in casa contro la vice scandone a Montella di Oliva, potrebbe portarsi al terzo posto, agganciando il parco. Insomma, soltanto al termine dei 90 minuti potremmo avere un quadro chiaro della situazione. Tornando al match di cartello, quello tra la Lupo e il Parcaquilone, giocando a Bonito un derby tanto atteso, testimone alla carenza di strutture sportive in città. Un talone d'Achilla, un fardello pesante che il capoluogo deve risolvere, perché sarà palesata addirittura l'ipotesi, stando ai rumors di giocare la partita al Superga di Mercato Sanseverino, o ancora a Baronissi, ma gli impianti serenitani non erano disponibili.